Ciao a tutti e benvenuti a Vilemos di Calcio per parlare di Napoli-Bologna. La partita ha terminato con il risultato di 3-0 e che non sul colpa ha spazzato via la coccente delusione di Verona. Nel giro di una settimana abbiamo visto il Napoli trasformato sotto tutti i punti di vista. Io in occasione della precedente partita mi ero lamentato del fatto che non si fossero visti i principi di gioco. Avevo detto che l'unica cosa interessante che avevo notato era quella di aver portato Di Lorenzo in attacco nella spese di destra. È una soluzione che applicano diverse squadre con la difesa a tre, che vogliono fare un calcio propositivo, aggressivo. Ma a parte questo c'era il deserto. Con il Bologna le cose sono cambiate radicalmente. In campo si è visto molto di più. Penso ad Anguissello-Botka che si sono alzate sulla linea di Caraschale-Politano per appressare il Bologna formando così una linea a quattro ed una a cinque, quella della difesa naturalmente, che restava alta. È vero, il Napoli non è riuscito a mantenere sempre questa linea a quattro, ma è fisiologico. Insomma, di cose interessanti se ne sono viste. Il Napoli è riuscito ad assorbire il pressing del Bologna, a differenza di Verona. Certo, è uscito un po' a fatica, ma sono convinto che vedremo migliorare questo aspetto partita dopo partita. A questo punto sembra evidente che Di Lorenzo, salvo questioni di emergenza, non tornerà più sulla fascia e adesso è ancora più chiaro perché Conte ha posto un veto deciso sul capitano, sulla sua gestione. Fin dal principio lui ha visto il centrale giusto per andare ad attaccare l'Half Space ed inserirsi per calciare in porta. Questa è una cosa che credo, ad esempio, non si possa chiedere a buongiorno. È Di Lorenzo l'uomo giusto per questo tipo di lavoro. A questo punto, come detto anche nel video per la partita di Verona-Napoli, servirebbe un esterno destro. Sia chiaro, la partita di Mazzocchi non è stata cattiva. Ci ha messo impegno e corsa. Nei primi minuti ha dato anche un'ottima palla al Raspadori. Ho sentito parlare di un interesse per Chaonà, sarebbe un rinforzo interessante. Avevo anche parlato della possibilità, con l'arrivo di Davide Neresh, di dirottare Politano sulla fascia essendo un calciatore che ha corsa e grande predisposizione al sacrificio. Ma magari sul mercato ci torno tra un attimo. Cosa è successo nel giro di una settimana? Fondamentalmente la squadra che è scesa in campo ieri, ha detto di buongiorno, era la stessa di Verona ma soprattutto era la stessa dello scorso campionato. E avvolgete il film della passata stagione. Vi ricordate una voglia di vincere e sacrificarsi ma soprattutto uno spirito di squadra come quello che ho visto ieri? Io no. Anche sa che probabilmente a Verona è stato quello che ha mostrato maggiore determinazione. Lo avete visto come si è dannato in campo. Io credo che Conte durante questa settimana abbia lavorato molto sulla testa dei calciatori perché alla fine è lì che sta il problema, fin dall'anno scorso. A Verona sicuramente abbiamo perso per una questione mentale ma credo anche atletica. Penso che il Napoli non fosse ancora pronto dal punto di vista fisico. Potrei dire che faceva caldo ma le condizioni climatiche sono le stesse per entrambe le squadre. Conte in conferenza stampa aveva parlato di cazzotti presi e che una squadra deve rialzarsi cosa che non ha fatto al Bentegodi. Ma quella sconfitta è servita al pugile per prendersi la rivincita. Non ha avuto paura di tornare sul ring, anzi ci è tornato con tanta rabbia. Ma sono sicuro che questa cosa non ha sorpreso Conte. In conferenza stampa era sereno, non solo perché stava per arrivare Lukaku ma perché ha visto come si sono allenati i calciatori. Sono convinto che Conte non si aspettasse una partita diversa da quella che poi è stata. E parliamo del mercato ma prima confido una cosa. Guardando la partita a tratto è fantasticato con una squadra che ha sia Lukaku sia Usain. Non so come andrà a finire con il nigeriano ma so che un'ottantina di milioni servirebbero a coprire parte delle spese. L'ho già detto in un precedente video, a questo punto è meglio accettare la migliore offerta possibile perché l'anno prossimo difficilmente le offerte sarebbero superiori per un calciatore prossimo alla scadenza. Probabilmente De Laurentiis la sua decisione l'ha già presa. Sta prendendo tempo con la speranza che arrivi qualche milione in più. Intanto ha agito perché anche lui come la squadra ha avuto uno scatto d'orgoglio e ci ha messo i soldi. A giorni arriverà McTominay che è un'ottima alternativa da Anghissà e probabilmente Gilmour. Con questi due calciatori apremo un centrocampo completo. Vedremo cosa farà il Napoli con l'esterno destro. Il campionato è appena iniziato e quello del Napoli è cominciato ieri. Io sono convinto che con i succidati rinforzi che do per acquisiti, questa squadra è competitiva e credo possa arrivare in Champions League. Poi se per mancanza di offerte decenti dovesse restare Ozymane, allora le avversarie dovrebbero preoccuparsi seriamente. Voglio aggiungere solo una cosa in chiusura. Sono andato a controllare a ritroso la classifica degli ultimi dieci campionati. Dopo due giornate ci sono sempre state almeno tre squadre a punteggio pieno. Questa sera gioca la Juve, l'unica che può ancora fare un punteggio pieno. Ma anche così sarebbe un'anomalia. Questo è un messaggio per tutti quelli che hanno gioito per la sconfitta del Napoli a Verona. Ok, chiudo il video qui. Vi saluto e ricordatevi l'iscrizione al canale.